Buongiorno a tutti ed eccoci alla prima giornata di Bossa Aperta dell'anno 2022. Oggi infatti è lunedì 3 gennaio e sono le 10.11. Se andrete a ricontrollare ciò che dicevo nell'analisi di ieri, mi aspettavo, dopo la violazione di questo swing, la conferma della partenza di un nuovo team verso che avrebbe potuto anche continuare a farci scendere. Invece cosa è successo? Siamo saliti! Quindi questa è una delle ragioni per cui adoro la ciclica evoluta. Perché adoro l'evoluta? Perché ci permette di prendere rischi, di non prendere rischi non necessari. Ovvero non si rimane mai in overnight, quando peraltro l'overnight non durerà magari soltanto due giorni, ma ne durerà anche qualcuno di più per le festività. E quindi questo ci permette di non partire da una situazione già in difesa e in perdita temporanea. Perché al ragionamento fatto ieri mancava una cosa che avevo sottolineato ieri stesso. La violazione dello swing c'è stata. Ma sono arrivati i volumi? Arribassero? E no! Sono arrivati gli HFT! E quindi, dato che sono arrivati gli HFT, abbiamo una grossa opportunità. Quale, direte voi? Quella di valutare se da questo massimo fare che cosa? Fare un conteggio se da qui si è già formato un T inverso, un ciclo settimanale inverso fatto a U, già tutto vincolato a salire di prezzi. E noi, oltretutto, saremmo in vantaggio talmente grande rispetto a questa opzione che, dato che abbiamo fatto un T-2 inverso, un ciclo a due giorni inverso, fatto sempre a U, e siamo rimasti sotto questo minimo per quante barre? Ben più delle 44-48 previste. Se tutto verrà confermato, noi abbiamo quattro giorni di salita che conosciamo già. Può essere un'informazione interessante, soprattutto inizio anno, e soprattutto avendo seguito le regole operative dell'evoluta, ecco, queste sono le grandi soddisfazioni che dà un metodo e un approccio statistico-matematico non discrezionale. se ti attieni alle regole, sempre, sempre stop loss, sempre take profit, sempre, 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 se diventi una macchina, non ti trovi a dovre difendere quello che era uno short praticamente telefonato e che si è trasformato in un long. Perché, come dicevo sempre ieri nell'analisi che vi suggerisco di andare a vedere? Qui, spazio, per continuare a salire fino a 43 barre, ce n'è. E quindi, un'apertura come quella di oggi, con una candela qua che non si vede ancora, che è superato per questo massimo dopo due candele che sono rimaste sotto, ragioniamo pure di tutti i raccordi che volete. Ok? Sappiamo che devono essere di grado, non ve lo dico, bisogna saltarlo dalle nozioni di evoluta. Ma facciamo tutte le considerazioni che vogliamo, poi però ragioniamo operativamente, ovvero, se rimarremo sotto questo massimo per almeno un sottociclo che lanci un t-3 inverso, un ciclo giornaliero inverso, in violazione di questo massimo stesso, dei 16.049, ragioneremo eventualmente di posizioni long, non soltanto per l'intraday, ma eventualmente anche per l'overnight, quando avremo dissipato il rischio raccordo inverso. Peraltro, da qui, non dico che sia certo, ma difficile il contrario, è partito un nuovo T settimanale, può essere partito un nuovo settimanale, ci sono tutte le condizioni per chi sia partito, per cui, spinta, è possibile che ce ne sia, guardate la media mobile, come si sta girando dall'altra parte, per 10 che non andrà più in death cross, ovvero indicatori presi da soli, senza l'evoluta, non servono a niente, assolutamente niente, e quindi, grazie 2022, per questa lezione di inizio anno. Seguendo un metodo, e delle regole statistico-matematiche, non siamo già in perdita, non abbiamo anticipato uno short, e possiamo invece andare a ragionare di un long che può durare minimo che i 4 giorni e via di seguito, perché si può arrivare anche a 11 complessivi e quindi sarebbero 9 giorni di salita. Ribadisco, prima va verificata l'ipotesi raccordo, che è l'unica che può dare fastidio. Ok? In ogni caso valuteremo più long che short quest'oggi. Per quanto riguarda l'indice italiano, anche in questo caso, 1, 2, 3, qui la situazione è un po' diversa, perché qui potrebbe non aver proprio chiuso, appunto qua, il nostro T inverso, il nostro ciclo AU inverso. Per cui, abbiamo un raffronto, possibilissimo che sia uguale alla centratura, rispetto al DAX, assolutamente possibile. In questo caso però ci darà un bel vantaggio, perché ci dirà se effettivamente ha senso ragionare di long, oppure no. Perché? Perché qui abbiamo già 1, 2 e 3 cicli inversi giornalieri, non soltanto 2. E quindi bisogna vedere se quello che farà il MIB in anticipo, il DAX lo seguirà. È un bel vantaggio. Anche in questo caso, ottavo T-3 è possibilità che da qui sia partito un T settimanale. Nuovo. Lo swing è stato violato. Il tempo ce l'abbiamo? Un T-2 rialzista, un ciclo 2 giorni rialzista? 45 bar. Ok, ne mancano 3. Se entro 3 non scendiamo sotto questo minimo, cosa abbastanza difficile, ma gli HFT possono tutto effettivamente, da qui è molto probabile che sia partito un nuovo ciclo settimanale. Anche questo è da controllare, ma abbiamo tutta la calma del mondo, perché non stiamo difendendo uno short anticipato qui. Vi ringrazio per il vostro tempo, e vi auguro una splendida giornata, perché so che la mia lo sarà sicuramente, perché ho scritto quello che vi dicevo di fare su un pezzo di carta, che dicevo che io avrei fatto in realtà su un pezzo di carta. Sto ancora finendo di mettere a posto tutti gli obiettivi, sto aggiungendone alcuni, togliendone altri, e poi li declinerò quest'oggi in piccoli passi, in modo da raggiungere quello che ho deciso che voglio per me. Perché se sarò felice io, c'è una forte possibilità che lo siano anche tutti quelli attorno a me, e quindi anche il circolo virtuoso. Grazie per il vostro tempo, e ancora buona giornata. Arrivederci.